Qui Ogbon è molto distante da Juric, riesce solo all'ultimo istante ad arrivare a freddo contatto ma ormai è troppo tardi. E allora tre giù dal termine, Juventus ancora sotto, il gol di Tommy Juric, 23 anni, abbiamo detto gioca nel Sydney Wanderers, l'Australiana di origini croate, già tra presente un gol in nazionale per lui, ha giocato anche in Europa in Croazia con la locomotiva e l'Inter al Zapritic.